Si presenta con un look rinnovato e adeguato agli aggiornamenti tecnici, ma la formula vincente resta la stessa. E' la Toyota CH-R riproposta in versione 2019 e con due novità sotto al cofano, un 1.8 da 122 CV debitamente migliorato e attualizzato e il nuovo sistema Hybrid Dynamic Force 2000 con 184 CV, lo stesso motore che aveva precedentemente debuttato sulla Toyota Corolla. La CH-R restyling migliora inoltre anche l'esperienza in auto con il sistema multimediale che adesso integra Apple CarPlay e Android Auto. All'esterno però rimane fedele alle sue linee da coupé che creano uno stile capace di distinguersi. Gli aggiornamenti dinamici includono un tuning EPS modificato per un miglior feeling con lo sterzo e tutte le varianti sono dotate di un pacchetto NWH aggiornato per ridurre ulteriormente la rumorosità dell'abitacolo. Qui fa il suo debutto un nuovo sistema multimediale che aggiorna l'offerta di connettività.